Gentili telespettatori buona giornata vediamo questa rassegna stampa di oggi giovedì 2 dicembre 2021 partiamo con il Corriere della Sera le prime pagine via libera al vaccino per i minori militari nelle scuole per i tamponi von der Leyen apre all'obbligo di immunizzarsi nell'Unione europea decisione dell'AIFA sulla campagna tra i 5 e gli 11 anni casi in aumento superata la soglia superata la soglia delle 100 vittime maggioranza larga sul colle e poi vediamo qui sotto si parla di fisco fisco un assegno ai genitori separati e i contributi peseranno meno si parla di circa 800 euro come assegno per i figli l'Ocse dice il pil italiano corre andiamo a vedere la repubblica la repubblica titola le previsioni dell'Ocse ripresa locomotiva Italia l'economia cresce del 6,3 per cento più degli altri paesi avanzati la spinta dell'industria e dell'aumento dei consumi debole l'occupazione tra contratti a termine salari bassi ma virus e inflazione ora minacciano la risalita nel decreto legge fisco aiuti ai genitori separati e stretta a limo sulla prima casa qui si parla di locomotiva Italia ma l'Italia ha fatto meno 9 per cento l'anno scorso quest'anno fa più 6,3 il alla fine è negativa in due anni c'è un meno 3 per cento circa e gli altri paesi bisogna vedere che cosa hanno perso pertanto parlare di locomotiva Italia grande crescita mi sembra un po fuori luogo è un rimbalzo tecnico via libera ai vaccini sono sicuri e poi vediamo cantieri fermi a San Marco si sgretola ma andiamo a vedere che cosa dice la stampa l'Europa valuti l'obbligo vaccinale l'AIFA ok alle dosi per i minori prima iniezioni a ridosso di Natale tracciamento la strategia non funziona appello di von der Leyen discutiamone figliuolo nel mirino per dad e piano somministrazioni poi andiamo a vedere un altro giornale libero quotidiano che titola caratteri cubitali petizione di libero no a chi vuole rubarci il quirinale che cosa è successo che il fatto quotidiano di travaglio lancia la campagna per fermare la candidatura di berlusconi al colle ma il centrodestra ha diritto di stare in corsa con chi gli pare firma anche tu su questo non c'è dubbio però il libero fa questa contro campagna visto che il fatto raccoglie le firme per il no a berlusconi al quirinale libero fa la campagna per raccogliere consensi per il sì al quirinale di berlusconi effetto novax superati i 100 i 100 morti questo non l'ho capita vaccini ai bimbi si comincia fra 15 giorni l'industria corre più veloce del recovery andiamo a vedere il giornale verdetto dell'aifa vaccino ai minori e sicuro e funziona via libera dei cinque anni in su e per salvare la scuola arriverà l'esercito tamponi a casa e test in laboratori speciali delle forze armate il governo pensa all'obbligo per gli over 60 berlusconi al colle un suo diritto travaglio è volgare e offensivo bollette fisco si tratta industriali contro draghi bollette fisco perché le bollette si parla di un aumento di un 50 per cento ulteriore da gennaio di luce e gas infatti qui c'è la notizia così i costi delle materie prime minacciano la ripresa andiamo a vedere il fatto quotidiano il fatto quotidiano parla di berlusconi al colle già 40 mila no lui prepara il messaggio tv quarta ondata von der leyen evoca l'obbligo vaccinale adesso tocca ai minori come a giugno più di 15 mila casi in italia omicron sfugge più della delta così agli under 12 l'aifa si divide poi però da l'ok andiamo a vedere la la verità la verità titola il buon natale dall'unione europea obbligo vaccinale per tutti l'aifa dà il via libera alle iniezioni per i bimbi pertanto l'unione europea vorrebbe che i 27 paesi europei dessero tutti insieme il via a un obbligo vaccinale per tutti il premier impactor della germania affaccia l'idea e subito la tedesca von der leyen raccoglie in posizione da bruxelles che mette a berlino al riparo dalle conseguenze dell'atto in viso ai cittadini una strada pericolosa poi vediamo qui i commissari europei hanno segatura nella testa dice un giornalista della verità inflazione spenna i cittadini per tre volte il rincaro delle bollette è attuito solo in parte dalle contromisure che tuttavia sono adottate con i soldi versati dagli italiani con le tasse e i comuni a loro volta in difficoltà si apprestano ad aumentare le addizionali andiamo a vedere napoli chiede un miliardo ma affitta case a 24 euro gli sprechi sotto il vesuvio abitazioni apposillivo a prezzi stracciati perdite milionarie andiamo a vedere che cosa dice che cosa dice il tempo da quello di inizio autunno arriva da gennaio un nuovo maxi aumento di tutte le bollette per l'energia e viene il titolo alla canna del gas il tempo di osho silvio torna in beauty farm fa il tagliando per il colle te posso richiamare tra anoretta che sto entra a pilates in realtà è vero berlusconi si sta rifacendo un po il tagliando diciamo proprio così per essere pronto per diventare presidente della repubblica quindi lui ci crede si vede che i voti li ha trovati probabilmente bisogna vedere se i franchi tiratori saranno di più o di meno dei voti che ha trovato che ha trovato lui andiamo a vedere il messaggero che dice natale shopping costancata dalla benzina al pesce fino al gadget high tech l'impennata dei prezzi per le famiglie nomisma dice aumenti delle bollette di gas più 50 per cento luce più 25 il governo cerca due miliardi che poi assolutamente non sono sono sufficienti per tagliare le bollette a a tutti andiamo a vedere il sole 24 ore cartelle fiscale stretta sui ricorsi manovra il governo valuta un taglio una tantum dei contributi per il 2022 io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata grazie a tutti